ciao sono saturnino questa è rocker tv e questa è una delle pillole di a lezione con come oggi c'è anche oliva però lei è tutta nera quindi nero su nero vi capiterà di vederla ogni tanto passare e oggi vi racconterò della mia prima esperienza con rezzo phonic il pezzo è survive cantato da cristina scabbia e andrea ferro il pezzo naturalmente ha un piglio di una certa aggressività però ha una coda in cui il ritmo andava via e tutto rimaneva sospeso e quindi io ero lì e come capita un sacco di volte ai bassisti sulla coda gli si lascia spazio infinito e io sono partito con questa cosa qui e quando mario che stava suonando il pezzo come ha sentito questa cosa mi ha detto no questa la dobbiamo lasciare e così siamo andati avanti ed è rimasta per un po di secondi quasi un minuto e se andate ad ascoltare il pezzo trovate sulla coda questa cosa qui va suonato rigorosamente in piedi perché soltanto in piedi gli si dà quella quell'andazzo e quell'intenzione ritmica ora registrare per tutti i progetti di rezzo phonic è sempre una gran figata perché in studio arrivi e non sai chi trovi in quel caso c'erano come ho detto prima cristina e andrea ferro cristina scabbia andrea ferro però tutti i progetti di rezzo phonic hanno dentro una serie di ingredienti umani e sonori che non t'annoiano mai